... Oltre 210 monoposto ripercorrono le tappe di questo sport. Le auto union degli anni 30 di Nuoari, Barsi e Rosmaier oggi nelle mani di Jack X ed Hans Stuck tornano a farsi ammirare. Ed anche per il pilota belga, ex Ferrari, quello di Monte Carlo è un fine settimana fuori dal comune. Il cuore di essere qua con tanti tifosi di automobilismo, di corsa è fantastico. Il Gran Premio storico è una cosa incredibile. Tutto come una volta, i gesti sono gli stessi di qualche decennio addietro. La passione si respira ad ogni passo. L'elenco dei marchi è irripetibile e sul fianco spiccano con orgoglio coloro che avevano esaltato. Il Principato è, insomma, per 48 ore, l'autentica enciclopedia mondiale dell'automobilismo sportivo dove la sopraffina arte del controsferzo è premiata. Case ancora presenti ed altre che non esistono se non nel cuore degli appassionati. È il caso della Tecno di Bologna, leader ovunque sino al grande salto in Formula 1. Presenza fin troppo breve. Toscano, grintoso, conosciuto negli anni 70. Nanni Galli riassapora le vibrazioni e i rumori del periodo magico con la sua compagna di gara. Tecno è stato un amore nei kart, nel Formula 2 e nel Formula 1. Peccato che allora erano altri tempi e Pedersani si stancò dopo 11 gare. Oltre 210 Formula 1, chiamiamole così per comodità, ed altrettante Formula 3, GT Sport, Formula 2. Trasferto in chiaroscuro per gli italiani, salve Emanuele Pirro che dopo aver dominato le prove della Formula 3 si è ripetuto anche in gara. Vittoria conquistata veramente in scioltezza, con tanto rispetto sia per il circuito che per la macchina. Rispetto per l'auto e per la pista, Monte Carlo il tracciato che non perdona, lo esige. Il percorso unico per caratteristiche, storia, prestigio, mondanità è spietato. Tra le gare vissute in apnea, quella del 1970, Jack Brabham, pilota e costruttore, è in testa. Il vantaggio su Yoke non rinta è notevole, ma l'austriaco della Lotus è un osso duro, oltre che virtuoso del volante. Comincia a spingere, batte record su record, arriva alle spalle dell'australiano, ormai stanco, anche se può ancora vincere. Sbaglia in postazione, ha ruote bloccate, con l'auto fuori controllo, batte contro le barriere. Rint passa indenne ed è primo, ma il direttore di gara non dà la bandiera a scacchi per la sorpresa. Successo che potrebbe essere invalidato per questo. Prevale il buonsenso. A Monte Carlo vincono i grandi campioni e Rint lo era. Per questo la valenza dell'evento è speciale. Il 1929 vuol dire una storia veramente, dove le Mercedes, le Auto Union, le Ferrari, le Lotus e altre vetture hanno fatto l'istoria dell'automobilismo. Il patrimonio meccanico è una piccola grande fetta del progresso, denso anche di ricordi e del desiderio di tornare sul sedile della gioventù. Questo è stato un merito di Pedersani che aveva questa macchina in cantina. Mi telefonò e disse guarda Nani me l'hanno chiesta da un museo. Io però avrei piacere che la macchina devi vederla in giro su qualche gara, ma diciamo da gentleman drive. E così è stato. Ci abbiamo messo quattro anni per risistemarla. E abbiamo praticamente lavorato, sembra tanto, ma quattro anni per risistemare una macchina che era completamente in cantina. Motore da una parte, sospensione da una parte. E' stato poi naturalmente, anche da un punto di vista tecnico, è stato passato tutto al controllo magnetico. Quindi la macchina è più sicura adesso di allora. La Formula 1 è la sirena, il cui canto è irresistibile anche per coloro che avevano vinto, e tanto, con il turismo ed oggi si tolgono lo sfizio del sogno proibito di allora. Piloti che gente sosteneva Enzo Ferrari di altra passa, speciale, campione italiano 1972 con la 128 Coupé, partenopeo, Cosimo Turizio. E' innegabile che queste macchine hanno un fascino, diciamo danno una soddisfazione di guida che poche altre macchine, anzi forse nessuna altra macchina dà. E credo anche le moderne, perché le moderne manca poco e metti la scheda e vanno da sole. Verrebbe il desiderio di continuare, ma il tempo è tiranno, la lucida analisi di Emanuele Pirro. Queste sono giornate davvero particolari, perché secondo me l'automobilismo adesso ha tutta questa popolarità, perché le fondamenta dell'automobilismo sono nate negli anni 50, 60, 70, e queste sono le macchine che hanno veramente reso l'automobilismo così popolare come è adesso. Ci abbiamo tutta tutta la storia, e per chi è appassionato è qualcosa di veramente emozionante, e tutto questo parco macchine viene portato in un circuito che ha fatto la storia dell'automobilismo. Grazie per la visione!